Una storia semplice credo che sia uno di quei pezzi che mi ha particolarmente catturato. Fin dall'inizio, da quando Giuliano aveva scritto semplicemente una versione molto scarna di chitarra e voce, poi un provino comunque indicativo. È quel pezzo che rappresenta la sintesi perfetta tra i vari generi. È un pezzo proprio alla Negra Amaro, un pezzo in cui c'è raccolto un po' di tutto e tutto viene espresso alla massima potenza. In Camera d'Albergo, proprio in queste sere, abbiamo riascoltato i nostri album perché non lo facevamo da anni. Ci siamo acconti di quanto sia cambiata la nostra musica, di quanto siamo cresciuti insieme, di quanto ogni disco mostri proprio l'anima dei giorni vissuti in quel momento in cui l'abbiamo scritto, suonato e realizzato. E oggi ci ritroviamo a vivere una dimensione professionale fantastica perché tutto lo staff è all'altezza delle loro potenzialità per sostenere un mega concerto come un concerto di Negra Amaro. Insomma, quindi siamo contentissimi di tutta la gente che lavora con noi e c'è un clima serenissimo di vero rock, di vera passione. Tante date, tanto rumore, fastuono, tante persone che ti incontrano e ognuno di loro ti fa il suo complimento, ti regala comunque un'energia, un qualcosa che poi te la porti dietro anche per mesi, per anni. Insomma, per cui io personalmente quando torno a casa analizzo tutte queste informazioni che mi sono state date nei giorni dei concerti e ne faccio tesoro. Per ora siamo pieni di canzoni nuove, siamo pieni di stimoli nuovi e questo forse è anche la fortuna della band, cioè il fatto di essere una band ti permette di ogni volta provare delle emozioni nuove, per cui intercambiabili, è bello questo. Se ognuno di noi fosse da solo, avesse fatto questa strada da solo, credo non ci sarebbe stata la stessa possibilità di sia reiterare i successi, sia non sarebbe magari tra virgolette successo ogni volta la stessa così grande sorte che ci è capitata, cioè che ci siamo fatti capitare, nel senso che abbiamo lavorato tanto perché succedesse, però non era detto che dovesse succedere. C'è successo, siamo felicissimi che stia succedendo ancora.